E mi rendo conto che in realtà allora sì c'è molto questa voglia di evadere, ok? Perché alla fine quello che faccio io penso che si possa descrivere molto più facilmente nell'evadere quella che è la normalità. Io cerco di vivermi la vita un po' più come mi va veramente, non seguendo degli standard o seguendo quello che vorrebbero le persone, ok? Tipo stai così, fai così, fai in quel modo, cerco di viverla un po' più come veramente mi sento di fare.